Un saluto da dottor Palmas, ti mostro un altro caso realizzato con sistema denti fissi, con sistema bocca bionica e quello che vedi è una paziente con una parodontite in stadio terminale, dei ponti metalloceramica nelle zone laterali incollati, finti, sopra le radici limate. Questa era una situazione davvero disastrosa dal punto di vista estetico in quanto gli incisivi avevano dei diastemi, degli spazi tra loro, erano scuri, gli incisivi laterali, canini, premolari, pianchi, dei denti fintissimi, infatti metalloceramica e tra l'altro un morso profondo completamente collassata alla bocca a causa della piorrea, della parodontite. Questa è la situazione occlusale, puoi vedere come erano finti questi denti, distrutti dall'occlusione errata, i denti anteriori non stavano più, si muovevano, li avevano incollati con della resina nella parte verso la lingua. Questo era uno stadio terminale di piorrea e la conferma l'abbiamo avuta con la radiografia, impianti dentali posizionati già in espulsione anch'essi. Abbiamo proceduto a eseguire una chirurgia, posizionamento degli impianti dentali e di protesi provvisoria. Questi sono gli impianti dentali posizionati nella bocca della paziente, questo è lo schema grafico del tipo di chirurgia che abbiamo eseguito con l'equipo maxillofaciale. Impianti ptericoidei, impianti convenzionali e protesi provvisoria avvitate sopra queste per far guarire poi i tessuti. Dopo sei mesi la paziente è tornata e questa è la situazione di partenza oltre che la situazione finale. Sulla sinistra vedi i denti con la malattia parodontale, sul lato destro la stessa paziente con gli impianti dentali inseriti. Abbiamo proceduto a questo punto a eseguire un design grafico per capire come avremo dovuto migliorare l'estetica, come avremo dovuto simulare le forme dei denti in accordo al viso piccolo della paziente e molto comunque femminile ancora. Abbiamo testato delle prove di denti in plastica perché volevamo essere sicuri delle forme che avremo dovuto poi selezionare. Infine abbiamo creato con lo zirconio i denti definitivi, con la linea superior abbiamo simulato i denti, le forme molto femminili, rotonde, graziose per un viso comunque che aveva sofferto parecchio e aveva perduto molto osso. Questo è il risultato di partenza, sono la stessa persona, semplicemente quella che vedi sulla destra, è una persona che ha ritrovato la gioia di vivere. I denti sono perfetti in quanto sono delle repliche di denti reali, denti perfetti, scansionati, riprodotti roboticamente, adattati alla masticazione con l'intelligenza artificiale, gengive simulate per dare questo senso di naturalezza del sorriso e delineare ancora meglio le forme dei denti. Effetto madre perla dello zirconio, un sorriso molto luminoso oltre che funzionale dal punto di vista estetico eccellente. Questo è uno dei casi veramente più belli a cui a me è piaciuto ridare uno sguardo, spero che sia piaciuto anche a te, guarda tutti gli altri casi risolti dalla mia equipe col sistema bocca bionica.